È un condannato a morte. Ce ne sono tanti altri come lui. Se insisterete, condividerete la sua fine. Hai sentito, Arido? Una creatura arida, senza animo. L'animo di una persona non si spezza con tanta facilità. Volevi vedere il mio ninjutsu? Ora ti accontenterò. Osserva bello, ninjo bonzo infuocato! Ottimo lavoro!